Buongiorno a tutti, sono Diamante Borzilla, faccio parte del coordinamento territoriale da Senti al Centro. Questo coordinamento nasce per fare in modo che il distretto 13 non venga chiuso. Abbiamo sollevato la problematica qualche tempo fa, palesando il fatto che a breve ci saranno due pensionamenti e da parte degli organi preposti queste persone non saranno sostituite. Quindi qui ci saranno pochissime unità, una sola alla materno-infantile ed una al centro vaccinale che non potranno sicuramente far fronte all'esigenza del territorio. Il coordinamento proposto nasce con la collaborazione di varie associazioni e di comitati. L'intento è proprio quello di sollevare la problematica e di fare in modo che gli organi preposti diano le giuste risposte al territorio. Dobbiamo notare e far notare che purtroppo le istituzioni sono assenti, non hanno preso a cuore questa problematica e speriamo fortemente che con oggi venga dato il giusto risalto a questa esigenza che viene dal territorio.